Ed un fantastico ciao a tutti ragazzi e ragazze Bentornati in questo nuovissimo video Io sono ThePlay e benvenuti in questa nuova rubrica La vita dello svapatore Oggi andremo a recensire un nuovissimo liquido Nuovissimo per dire Il Summer Party Della Seven Wonder Fantastico Liquido perfetto Per l'estate Perché come andrò a dirvi E' un Frozen Watermelon C'è un'anguria Ghiacciata con ice Andiamo alla prova olfattiva E poi alla prova Alla prova di svapo L'odore ricorda tanto le caramelline Quelle non so se sapete A forma di cocomero Un cocomero molto dolce E basta Andremo a provare sul profile con il tubo Della V-God Andiamo a versare giusto qualche goccia Perché l'avevo già fatto prima Voila Pronti E siamo pronti per la svapatore Micchia L'ice L'ice Al primo colpo quando si drippa Si sente molto Poi tende a svanire Infatti già ora Sta svanendo E prevale molto il sapore E prevale molto il sapore di questa anguria Un'anguria non troppo dolce Ma molto buona Perfetto per l'estate Perché Infresca Moltissimo Andiamo a tappare Perché se no qui succede un casino Lo so già Molto 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 buono La Seven Wonders Da tempo non ne sbaglia una Con i suoi liquidi Della serie Stard Tra cui il Bat Stard Il Fruit Stard Che ho assaggiato tutti Che purtroppo non ho portato qui sul canale Ma Sempre Liquidi Stupendi E Nulla ragazze Noi ci becchiamo In un altro video E Niente Alla prossima